Ben trovati telespettatori del Sassone allo stagno. Questa settimana siamo a Clusone per parlare di lotta al fumo. La nostra trasmissione da anni sta conducendo proprio una lotta contro il fumo. Quest'oggi però la vogliamo dedicare ai minori perché da un recente sondaggio è emerso che si comincia a fumare già all'età di 12 anni. Cosa fare per invertire questa tendenza? Tentiamo di scoprirlo oggi con le persone che andiamo ad intervistare. Le troveranno anche in casa penso, perché in teoria non potresti andare a comprarle. Dopo se c'è qualcuno che ha i genitori che fuma, gliene sfila fuori uno o due dal pacchetto. Dice che i genitori poi non se ne accorgono. Non lo so, dico io, penso che uno che fuma fumerà un pacchetto al giorno. Un adulto, li vedi più o meno. Si vede che uno in più, uno in meno, non ci fa caso. Tu non hai mai provato a fumare? Non metto in difficoltà, no io non fumo. Perché non metto in difficoltà? No, sto scherzando. Io non fumo però vedo tanti ragazzi giovani. Quindi non è proprio campata così in aria questa ricerca dei 12 anni con le sigarette? Forse 12 anni è un po' presto però. Cioè io della mia età non mi ricordo di gente a 12 anni che fumasse. Ma arri nelle superiori sì, ma nelle medie... 12 anni vuol dire che sono... Ma sta l'ora che va avanti tutto di più. Sono prima e seconda media a 12 anni. Eh beh sì, sì. Cosa fare? Stangate. Cosa no? Ma cosa fai? Allora se le trovano già che comunque non potrebbero andare a comprarle qualcosa c'è. No, non so. C'è il divieto della... appunto una legge che vieta la Veneta. Ma proprio magari una legge, io la butto lì, che vieti anche proprio di fumare? Perché quindi controlli anche sui ragazzi per strada? O è un eccesso? Eh ma... In Italia? Sai che... Ma no, ma chi vuoi che li controlli? Chi? No, non lo so. Non c'era anche il divieto nei locali, nelle... Sì. Eh. Io vedo un po' di video ogni tanto nei locali. Mi sembra che si fuma. Siamo parlando di fumo. Lei fuma? No, no, no. Mai fumato? Mai. Ha figli? Due. Che età? Quattro e due. Ah, allora sono piccolini. Sì, piccoli. Siamo parlando di fumo. Io non fumo. Non ho mai fumato. Ok. Però la moglie fa anche per me. Ah! E ha figli? Eh, una figlia indiana adottata. Che età? 22. Ok. Si parla della prima sigaretta, ora ha 12 anni. La colpisce questo dato? Secondo lei non c'è niente da meravigliarsi? È una brutta cosa. È una brutta cosa. Iniziare così presto, direi che è proprio una cosa da evitare. Si dovrebbe evitare. Ma è... Però oggi la gioventù... È l'insegnamento, dici che non è l'esempio dei genitori? Eh, sì. Sua figlia appunto non fuma? No, no, no. Per fortuna siamo riusciti a non... Dopo... Dopo... Però per il momento non fuma. Quindi ha seguito il suo esempio, non quello di sua moglie. Sì, dai, diciamo così. Ma c'è stato bisogno appunto di un vostro intervento da serie nonno, di farlo? No, no, non è proprio stato una roba, no, no, no. Lei di sua spontanea iniziativa ha deciso di non cominciare. Sì, gli ho detto guarda lascia stare, lascia stare che è una brutta cosa prima per la salute, poi per i soldi perché... Dovrebbe intervenire lo Stato contro appunto questi ragazzi a 12 anni con le sigarette? Lo Stato... Lo Stato interessa vendere appunto per i soldi, no? Quindi anche se fuma a 12 anni... C'è quanto vedo... Non è che... E poi, ascolta, tu non puoi obbligare uno se vuole fumare, cosa devi fare? Cioè, se un ragazzo vuole iniziare a 12 anni a fumare... No, non è giusto però... Non ci si può opporre, almeno dal punto di vista legale. Stiamo parlando di sigarette. Non fumo. Non fumi? Non fumo. Mai fumato? Mai fumato. Ma sai che da piccoli si inizia, si prova? No, no, mai... Cioè, beh, sì, beh, è vero, ho provato però... A che età hai provato? Ah, direi la verità, li ho rubati dal mio papà. Sarà stata intorno ai 10-11 anni, penso che era quella età lì. Sì, però no, non sono una persona che... Quindi non ti sorprende il fatto che ora iniziano a fumare a 12 anni i ragazzi? Beh, diciamo che oggi giorno un po' dà la possibilità a tutti. Cioè, questa tecnologia, il social, influisce molto, sì, sono d'accordo. Però io non sono una fumatrice. Ci tengo alla mia salute, faccio sport. Nonostante avesse un papà che fuma. Sì, mio papà sì, ha sempre fumato, sì. Come hai fatto, appunto, a non seguire l'esempio? Ma, cioè, nonostante lui un fumatore, continuava a dire sempre, non fanno bene, non fanno bene, non fumate. Poi ho una madre che sgrida bene, quindi... Anche merito, è stato anche merito della mamma. Sì, 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 perché lei ha sempre odiato il papà che fumava, perciò... E tu da bimba, non hai mai provato a convincere invece il tuo papà a smettere di fumare? Eh, vabbè, è un po' difficile, sono un fumatore che la fa da una vita. Poi, essendo il mio papà, sai, c'è sempre quel tono lì dominante che mi fa Io sono il papà, devo fare quello che dico. Ok, e quindi? E' ok. No, cioè, purtroppo siamo tre fili, ma nessuno di noi fuma. Ma lo Stato dovrebbe fare qualcosa contro questi ragazzini che fumano così giovani? Prima dello Stato anche i genitori, credo. Perché un genitore controlla abbastanza, secondo te non controlla? Sì, però parte tutto, i genitori e lo Stato, tutti insieme. Penso che sarebbe giusto di fare qualcosa per i futuri, i ragazzi più futuri, sì. Eh, guarda, sono contro il fumo. Ho smesso di fumare, sarà dieci anni fa e sono contentissima. Perché quando si fuma, non si fuma solo le sigarette che si ha voglia, ma a un certo punto se ne fumano molto di più, senza voglia. E mi son detta, basta, cosa cavolo sto facendo? Come hai fatto? La testa. Senza cerotti, senza niente. Ho detto, primo giorno che non sto tanto bene, che non fumi, lo giro, vado avanti e così è stato. Lo consiglio veramente a tutti perché noi diciamo, però è la prima causa di morte, purtroppo, è il fumo. Parliamo spesso di appunto questo problema legato ai grandi, ma oggi ci concentriamo sui giovani. Perché sempre più da giovani, addirittura parlano di dodicenni, a dodicenni iniziano a fumare. Sì, e anche a fare altro, purtroppo. Ma mamma, hai controllato, controllavi i ragazzi se fumavano o non fumavano? Ti sei accorta che ogni tanto sparivano? Contavi il numero delle sigarette? Sì, non ho molto fatto caso a queste cose, devo dire. Forse perché fumavo anch'io e non mi sono resa conto che veramente la sigaretta faceva male. Adesso, vabbè, si spera, per fortuna mio figlio non fuma. E almeno uno si è salvato. Bisogna smettere, non c'è niente da fare. L'unica soluzione è quella, perché fa veramente tanto male. Non si vede, ma fa male. Seguite l'esempio. Esatto, fate così, smettete di fumare. Gli costa tanto, ma a parte il costo fa malissimo. No, io non fumo niente. Vabbè, la nostra mano, il nostro aiuto è quello, dire che non bisogna fumare. Ovviamente, odio chi fuma. Sa a che età iniziano oggi i ragazzi a fumare? Mi dica un'età più o meno. Prego. Mi dica un'età secondo lei in cui i ragazzi iniziano a fumare. Non saprei, perché io ne ho 85, ma non ho mai fumato in vita mia. Stiamo conducendo come TV da anni una lotta contro il fumo. Giusto, bravi. Oh, benissimo. Oh, bravi. Quindi ci appoggi. Bravi, bravi. Oh, bene, bene, bene. C'è anche qualcosa di intelligente da poter dire. Valgono anche i suggerimenti. Assolutamente. E oggi ci stiamo concentrando sui giovani. Perché è fresca fresca una ricerca di cui emerge che iniziano a 12 anni. 12 anni a fumare. Ti sorprende questa cosa? Insomma, un po' sì, però ci sarà qualcuno che gliele vende. O qualcuno magari a cui rubarle. Tipo i genitori. O qualcuno a cui rubarle. O qualche amico magari maggiorenne che... Anche. È un bel problema, un bel problema. Chi dovrebbe intervenire? Genitori o anche lo Stato? O qualche legge ad hoc? Beh, io non sono genitore, però suppongo tutte e due le cose. Sia i genitori sia lo Stato. Però io non sono genitore, quindi faccio la svelta a parlare. Ma se dovrebbe magari una legge ad hoc anche magari multando i ragazzini colti a fumare? O stiamo andando nell'esagerato? Credo sia un po' troppo. No. Sanno 12 anni. Direi che i genitori possono intervenire. Se ne accorgono secondo lei i genitori? Controllano? Non so. Non ho figli, l'ho già detto. Quindi non lo so. Però una legge su dei dodicenni ad hoc per il fumo? A me sembra eccessiva come cosa. Però... Una lotta contro? Contro il fumo. Ok. Io non fumo, quindi. Ok. Mai fumato? Mai fumato. Non l'hai provato da piccolino. No, no. Mai fumato. Hai visto qui, invece? È una moda tra i minorenni. Aiuto. Sai che te iniziano? 13, 14... 12. Ah, caspita. Un po' troppo presto. Eh sì, direi. Come fanno a 12 anni già a fumare? Perché non c'è controllo dei genitori? Perché? Guarda, non è una cosa... Non lo so, può darsi anche che sia il fatto che i genitori non li controllino. Certo, sembra strano. I miei due ragazzi, quando escono, quando tornano, io... Vecchio metodo, annuso. Davvero? Vecchio metodo. Allora stavamo cercando proprio una mamma come te, sei perfetta. Però, certo, non è facile controllarli. Penso te la possono fare sotto il naso quando vogliono. Però tu sei attento a questo problema? Sì, in minima parte sì. Poi non fumandone io e mio marito, vabbè, ci auguriamo che anche loro non fumino. Poi, vabbè, qualche indicazione si è data ai ragazzi, sia sul fumo che sull'alcol, qualcosa gli si è detto. Poi una scelta loro, certo, a 12 anni forse no. Forse non sanno neanche i rischi che corrono in verità. Ma sei anche un po' una mamma detective della serie Vediamo se nei cassetti sotto al letto c'è qualche pacchetto nascosto? No, 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 fondamentalmente no. Tendo a fidarmi di quello che mi dicono. Giustamente se dovesse capitare che mi iniziano a fumare non lo vieterò totalmente. Però certo a 12 anni no, assolutamente. Quando saranno più maturi, quando saranno un po' più adulti decideranno però sì a 12 anni no. E nel caso trovassi davvero quel pacchetto di... Se dovessi scoprirlo penso che agirei con forza, insomma, sì, 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 quello sì. Ma sicuramente cercherei di fargli capire il danno che provoca il fumo, penso a livello cerebrale e tutto, facendogli vedere comunque anche, non so, dei video piuttosto che delle conferenze, qualcosa di reale e tangibile che loro possano vedere con i loro occhi, ecco. Perché a volte le parole non bastano, magari un'immagine potrebbe essere più... Quindi conta più l'opinione, conta più la parola della mamma o magari la compagna gli amici? Sono gli amici che vanno controllati anche sicuramente, sì, sì. Tu cerchi di educarli nel meglio possibile, nel modo miglior possibile, poi è un po' anche una fortuna quello che accade, perché poi nel mondo c'è sempre la persona che non dovrebbero incontrare ma incontrano. Però complimenti per l'attenzione, verso il problema. Eh sì, quello sì, sicuramente quello... un occhio c'è sempre. Pausa per il Sassano e lo Sagno, tra poco ancora da Clusore. Sta moda qui tra i giovani, a 12 anni già con la sigaretta in mano. Non saprei cosa risponderti, io non ho mai fumato in vita mia, probabilmente perché se parte dai genitori, vedono i genitori, è gravissima questa cosa, va tutto un controllo a monte. Se vedono i genitori fumare è normale che il bambino fuma. E quindi cosa fare per tentare di... Fagli capire che il fumo fa male e con tutte le conseguenze del fumo. È una dipendenza, è una droga il fumo. E poi dicono, eh ma il mio amico fuma, l'altro mio amico fuma. E allora se tutti ci buttiamo giù dal ponte, avanti. Fanno più i genitori, fa più la voce del papà e della mamma o quella della compagnia? Fa più la voce del papà e della mamma, anche la compagnia, però a monte c'è papà e mamma. Quindi secondo te un ragazzo dà più retta ai genitori che alla compagnia? Dipende, bisogna proprio martellare duro. Certo che si dice dai non fumare perché ti fa male. Martellare duro che cosa intendi? Martellare duro vuol dire prendergli le sigarette e buttagliele via. Una volta, due, tre, quattro, fumi di nascosto. Ok, va bene, fatti i tuoi. Tu non hai mai... Io non ho mai fumato, mai neanche provato. Venivo derisa perché comunque in compagnia venivo derisa. Io ho 60 anni quindi mi vanto di non aver neanche mai provato a fumare. E va bene così. E i tuoi compagni fumavano a che età? Fumavano tutti. 15-16 anni, ma io sono un'altra generazione. Quindi 15 anni l'approccio con la sigaretta è quello. Sì, 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 sì. Oh, ti ho vista! Dai, dai, ci devi dedicare giusto quei tre minuti. Da quanto? Un po'. A che età è la prima sigaretta? Perché abbiamo un sondaggio che svela proprio le abitudini dei ragazzi legati al fumo. 16, 16 anni, 15. Vabbè, allora ho iniziato tardi. Pensa che oggi i ragazzi, secondo una recente inchiesta, cominciano a fumare a 12 anni. Cavolo. Presto. Eh, e quindi come hai iniziato tu? Eh, a casa ho acceso una sigaretta che mia sorella aveva spento. E quindi è la colpa della sorella? Sì, più o meno. Ma con i genitori che fumano? Sì, anche. Quindi c'è da dire che anche, insomma, l'esempio è anche quello dei genitori. Sì. Quante al giorno? Un pacchetto. E quindi? Ma perché fai quella faccia di una presa con le mani nella marmellata? Perché ti rendi conto che, insomma, non è una buona cosa? Sì, sì, so che non... Ah. Però... Non riesco a smettere. Hai provato? Ho provato. Seguendo quali metodi? Curiosità, eh? Smesso e basta. Però sono durato una settimana. E poi la tentazione e richiamo è rimasto. Sì. Sei, immagino, non solo l'unica della compagnia? Sì, sì. A tutti. A tutti? Sì. E quindi uno se smettessero tutti insieme magari? Eh, sì. Penso, però no. Non avrai provato a lanciare il sondaggio? No. Ragazzi, scompensa, vediamo se riusciamo a stare un mese senza sigarette. No. No, proprio mai lanciato il messaggio. No. Non penso che riusciremmo. No? Pensi messi proprio in partenza. Sì. Stiamo parlando di sigarette. No, guarda. Quanti anni? Andando, 18. Ah, bene. Fumi? No. Benissimo. Perché i tuoi genitori non fumano? Perché sei stato tu a dire no, non voglio fumare? No, no, non fumano neanche i miei. I tuoi amici? No, non tutti, no. Qualcuno sì, però. Alcuni che conosco, sì. A che età hanno cominciato? Non lo so, penso circa la mia età. Ma questo tuo non fumare, appunto, è nato da una lezione che ti hanno dato i genitori da serie. Guai se ti becchiamo? No, beh, anche perché per il fatto che comunque so che fa male e che comunque non va bene, quindi cerco di non farlo, non lo faccio. E a scuola c'è stata anche un'indicazione in questo senso? Avete fatto delle riunioni, vi hanno fatto vedere dei video? Sì, sì, sicuramente. Abbiamo fatto anche abbastanza ore riguardo questo argomento e quindi anche lì ci hanno fatto capire che appunto è una cosa sbagliata, che non bisogna farlo. Ottimo. Complimenti. Grazie mille. Parliamo di fumo. Ah, beh, io non fumatore. Non fumatore? No. Anch'io non fumatrice. Mai? No. Provato, ma niente di che. A che età hai provato? Quando ero più giovane, 18 anni. 18 anni? Eh no, adesso ne ho 40, quindi... No, certo, no. No, perché dico adesso, cominciano a provare, sai a che età cominciano a fumare? Eh, 11, 12. Se mi avete letto il giornale. Eh, siamo insegnanti, quindi. Ah, ok. E quindi viviamo tutti i giorni con questa realtà. Ho proprio parlato adesso con un ragazzo e parlavo di insegnamenti contro il fumo a scuola. Fate qualche attività? Sì, sì. Alcune attività, vengono alcuni volontari a parlare degli effetti del fumo, della droga, un po' in genere, di tutte queste sostanze che loro assumono tranquillamente, però poi non so che effetto sottiscano poi. Non so che effetto di loro. Certo. Che faccia fanno loro quando gli viene raccontato queste cose? Li vedete attenti, sensibili al problema? Ma no, intervengono. Ecco, alcune volte per capire alcune problematiche che magari non conoscevano, però poi non dipende. Alcuni sono molto superficiali e pensano di sapere di più di chi hanno davanti e quindi pensano che sono, fondamentalmente pensano che sono affari loro, crea loro vita e decidono loro. E quindi, secondo me, ci vuole una sensibilizzazione maggiore. Solo della scuola o anche delle istituzioni, dei genitori che devono controllare? Penso che sia in generale, un po' in generale, perché secondo me si è un po' lasciata troppa libertà di scelta a questa età. Si può scegliere sì, ma quando si è consapevoli di fare la propria scelta, non scegliere perché l'amico fuma o perché lo fanno tutti e loro lo faccio anche io, se no mi sento, tra virgolette, inferiore agli altri. Che te hanno i vostri ragazzi? Sono le superiori, quindi... Sì, dai 12 fino ai 19, quindi abbiamo una bella fascia di età. Avete mai visto qualcuno, magari 12-13 anni, che magari in cartella nascondeva il pacchetto di sigarette? No, diciamo che ce l'hanno dentro. In quel caso lì, come serve comportare un docente? Chiamiamo subito i genitori? Facciamo fin di non aver visto? La scuola è vietato, quindi non possono assolutamente. Quando siamo fuori può capitare, però anche lì cerchiamo di limitare l'utilizzo, diciamo, che non si può fumare anche all'esterno, quando siamo naturalmente durante attività didattiche. Poi fuori è la loro vita, noi non possiamo entrare nella loro vita, noi non siamo i genitori, possiamo sicuramente nel colloquiare far capire, però poi non possiamo entrare nel privato. Quindi non potete dire a un genitore, al colloquio magari, signora, visto per chiudere il colloquio, le dico che è suo figlio e quando riesce dalla classe si accende le sigarette? Dipende anche da chi è di fronte, perché tanti genitori dicono quello che fa mio figlio, non sono affari suoi dopo l'orario scolastico, quindi... Ok, meglio, magari pensi di fare pure del bene invece... A volte è meglio evitare, sì. Fumi? No, non fumo, non ho mai fumato una sigaretta. Davvero? Nella mia vita, mai. Ma non c'è mai stato qualche tuo compagna di classe, magari anche quando eri piccolina, che provava e allora diceva Franci, dai anche tu, prova... Sì, ma io non ho mai fumato, mai, mai nella mia vita proprio, mai. Ho avuto i genitori che fumavano, entrambi hanno smesso e siamo contenti così. Ma di solito i figli prendono appunto l'esempio dei genitori, quindi avendo lì questi pacchetti, non ti è mai venuto la curiosità di provare? Vedendo i miei genitori che fumavano così tanto, probabilmente sia me che mio fratello non abbiamo mai sperimentato questa cosa. E vediamo la loro dipendenza, che era proprio una dipendenza perché le sigarette erano sempre presenti in casa nostra. Quindi mai rubato uno, bravissima. Mai, mai fumato e mai ha avuto neanche il desiderio. Sai che età iniziano oggi i ragazzi a fumare? Di media. Sono giovanissimi, 12-13 anni. Bravissima, c'è il zeccato, c'è il zeccato. Vedo, infatti vedo. Tutte le... hanno fatto questo sondaggio. Anche sì adesso con le sigarette elettroniche. Anche le sigarette elettroniche, sì, ci sono diverse addirittura quelle che usa e getta. Esatto. C'è un po' di tutto in questo mondo. Purtroppo, purtroppo è così. Non la vedo una cosa positiva comunque. Quindi la colpa non è dei genitori perché c'è il tuo esempio. No, no, secondo me è proprio che vedo magari degli esempi esatto di amici soprattutto. Inizia uno, poi inizia tutta la compagnia, secondo me. I genitori cosa dovrebbero fare? Indagare, controllarli? Sì, dovrebbero, secondo me, fargli capire che non è una cosa positiva perché dopo prendi la dipendenza per tutta la vita. Dopo ce l'hai oppure devi comunque disintossicarti, ma è difficile. Quindi i genitori controllate? Sì, assolutamente. Non sono genitore, ma bisogna farlo. Parliamo di fumo. Da fumo. Fumi? Sì. Da quando? Da un annetto. Come hai fatto a iniziare? Qual è stata la scintilla che ti ha detto voglio iniziare a fumare? Da un po' con i miei amici. Quindi è colpa delle compagnie? Sì. Non è colpa dei genitori? No, noi i miei genitori no. Loro non fumano? No. E t'hanno sgamata? Sì, sì, lo sanno. E quando ti hanno scoperta, diciamo, la prima volta, qual è stata la reazione? Tassi sono incazzati. Te l'aspettavi? Sì. Che tipo di reazione ti aspettavi dei tuoi? Che ti chiudessero in camera? Che ti invitassero di uscire? No, quello no. Perché comunque non risolvi niente. Però mi hanno sgridata. Mi ha detto che comunque non fa bene, così. Ok. E tu ovviamente dopo lo sgrido ti sei... hai detto basta. No. Poi, cioè, ormai... Ormai hai fatto, ok, non l'abbiamo sentito, ho passato quello step, continuo. Ma sigarette tradizionali? Perché adesso tra i giovani va molto anche... Sigarette tradizionali. Ma rimotta anche quelle elettroniche? Ah, no, quelle no. Quante al giorno? 3 o 4. Quindi è una cosa ancora contenuta comunque. Quando smetterai? Non lo so. Adesso io... Ti faccio l'inquisizione, adesso ti devo convincerti. Non lo so. Presto. Sì, dai. Sì. Speriamo. Me lo prometti? Va bene. Ok. Dove è il pacchetto di sigarette? Ma non fumo io eh. Non fumi! Brava! Ma hai fumato eh. Ma hai fumato eh. Bravissima. Ma mi piace, va bene. Stiamo facendo un sondaggio sul fumo? Ok, io non sono fumatrice. Mai? Mai. Hai provato? Vabbè, ho provato. Ok. Durante l'adolescenza. Stiamo parlando proprio di quello degli adolescenti che cominciano a fumare. Ok. Siamo già occupati degli adulti. Perché sai a che età cominciano a fumare? E ormai sempre prima. Penso 13. 12? Beh, dai c'ero. 12 anni. Come mai secondo te da questa età? Ma... Cosa che li spinge a fumare? Secondo me è più per farsi vedere dentro il gruppo e quindi cercare di assomigliare magari a qualcun altro. Cosa che dici che fa figo fumare la sigaretta? Secondo me sì. Però magari a qualcuno piace anche, non saprei. Tu non hai avuto esempio dei tuoi genitori? Fumavano o non fumavano? Allora sì, fumano entrambi. Ah! Però ho sempre fumato magari il sabato sera. Adesso basta in realtà. È stato facile smettere? Ma in realtà sì. Per una semplice tosse e dopo da lì ho deciso di smettere. Mentre nella tua compagnia? Sì. Sono più quelli che fumano o non fumano? Tanti fumano. Magari proprio anche solo occasionalmente il sabato sera. E te non dà fastidio della serie? Ma no, anche se qualcuno a fianco fuma non mi dà proprio così fastidio né ne sento il bisogno. E non hai mai nemmeno fatto la croce rossina della serie guardatevi fa male? No dai, sono infermiera però. Cioè allora perfetta. Se parliamo le due cose. Quindi non sei mai intervenuta per tentare di convincerli? No, ognuno può fare quello che vuole. E invece per i dodicenni chi dovrebbe intervenire? Eh, lì un po' i genitori, direi. Qualcuno dice che è la scuola che dovrebbe educare, qualcuno dice lo Stato, pugno duro. Ma secondo me è come fare magari una stupidata da dodicenne. Alla fine è l'esempio un po' dei genitori che si prende spesso, non sempre. Però un buon esempio parte sempre dalla casa e dalla scuola ovviamente, dal gruppo con cui ti circondi, che crei. Certo, quindi genitori mi raccomando, date il buon esempio. Ok. Piccola pausa per il nostro sassone allo stagno, ancora tra poco a Clusone per parlare del problema fumo tra i minorenni. Sai a che età iniziano a fumare i ragazzi oggi? A 13 anni. 12! 12! A 12 anni. Anch'io fumavo, però ho smesso. A che età hai iniziato? Presto. Cioè? Nascosto da mia mamma. Eh. Come si comincia a fumare? Ma così, si fa, si prova. Ok. Si prova e poi logicamente quando si piace poi si va avanti. Ma perché sono gli amici che influenzano o non c'entrano niente? Tanto, tanto, tanto. Sono gli amici, gli amici che ti tirano... Voi siete amiche e quindi... Noi siamo amiche, però io ho smesso. Ma io no. Non mi ha traviato lo stesso. Io avevo smesso tre anni, sono andata in ferie con la mia amica. Dai ancora una, eravamo là in ferie, tornata a casa e ho ripreso. Però adesso no, poi ho smesso. E per non far proprio neanche cominciare i giovani, come si potrebbe fare? Avete delle idee? Eh, farli cominciare, fargli capire un attimino che il fumo fa male, ma come fai a farglielo capire. Poi si trovano la compagnia che fumano, quello là fuma, quello là non fuma. E quindi penso che si facciano trascinare un attimino. I vostri figli fumavano, i poti? No, la figlia fumava, però l'ha smesso. Come ha fatto? Ha avuto un'influenza bella, forte, basta. Una bronchite e da lì ha smesso. Ma anch'io ho smesso per quel motivo lì, perché dovevo fare una cura, dovevo limitare le sigarette e mi son detta. E io devo rischiare magari di ammalarmi di più per una sigaretta. Dalla mattina alla sera, dal pacchetto che fumavo, che fumavo un pacchetto, ho smesso. E tu mi hai fatto abbeccare il tuo figlio la prima volta che fumavo con la sigaretta? E gliele ho trovate nella cartella. Ah, quindi controllavi. L'ho svegliata, sono andata di là, gli ho detto, questi qui sono? Ma poi no, non è che fumasse tanto. E lei ha detto, mamma, parli tu? Tu fumavi anche tu? Anzi, era lei che mi diceva da ragazzina. Mamma, dai, smettila di fumare, perché si fumava in casa allora, adesso si cerca di non fumare. Per lo meno io vedo che la maggior parte non fumano più in casa. Cercono almeno di evitare quello. Comunque sempre deve partire tutto dai genitori o anche la scuola? No, ma anche la scuola, soprattutto la scuola. Poi gli amici, gli amichetti fuma te, fuma io, prova o non prova. E loro lo fanno per non rimanere indietro agli altri. Ti fai trascinare un po'. Eh, per forza. Io da ragazza ero al mare con le mie cugine, perché eravamo in un appartamento. Eravamo in una stanza io e le altre due mie cugine. Per non farci vedere da mia zia, perché ero giù con mia zia, prendevamo il nostro pacchetto. Mi ricordo che erano le Linda. Le Linda. Le Linda. Erano color argento il pacchetto. E là fumavamo come delle mate là in camera. E poi apri le finestre. No, ma non respiravamo neanche, perché non si riusciva che si stava male. Le prime volte che respiri si sta male. Perché sai, si cerca proprio... Sono anche questi i ricordi di vita. Sì, no, no, ma è vero, è vero. Però poi ecco, io l'ho smesso proprio per questione di salute. Era l'ultima intervista per il Sasson allo Sagno di questa settimana che abbiamo voluto dedicare al problema del fumo tra i più giovani. Mi raccomando, genitori controllate, controllate, controllate. È tutto per la nostra trasmissione. Ci rivediamo tra sette giorni, sempre qui sul canale 84 di Antenna 2 TV. Grazie a tutti.